cominciamo avviando 9 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 saltiamo due catenelle 1 e 2 e sulla terza realizziamo una maglia bassa continuiamo realizzando 5 maglie basse una su ogni catenella sottostante ci rimane una catenella su cui lavorare in questa catenella realizziamo tre maglie basse una due e tre siamo sul retro delle catenelle e qui andiamo a realizzare sei maglie basse una due tre quattro cinque e sei siamo arrivati all'inizio del giro e andiamo a realizzare due maglie basse nello stesso punto 1 e 2 terminato il giro con un filo di diverso colore segniamo continuiamo lavorando un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto continuiamo con sei maglie basse una su ogni punto sottostante un aumento una maglia bassa da sola un aumento 6 maglie basse 1 2 2 3 4 5 e 6 un aumento e una maglia bassa da sola siamo arrivati alla fine del giro e abbiamo un totale di 22 maglie basse nel giro ripetiamo 22 maglie basse per i prossimi 11 giri terminati gli 11 giri di 22 maglie basse a questo punto possiamo posizionare i nostri occhietti di sicurezza continuiamo con una diminuzione 6 maglie basse 1 1 3 4 5 6 una diminuzione una maglia bassa da sola una diminuzione 6 maglie basse 1 2 3 4 5 6 6 una diminuzione e una maglia bassa da sola continuiamo continuiamo con una diminuzione 7 maglie basse una diminuzione e altre 7 maglie basse e altre 7 maglie basse a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro 6-7 e la 7-8 6-8 7-8 8 8 10 10 14 14 15 15 Grazie per la visione! 9 catenelle Saltiamo 2 catenelle 1 e 2 e sulla terza realizziamo una maglia bassa Continuiamo a realizzare una maglia bassa su ogni catenella sottostante fino alla fine della riga Terminata la riga di 8 maglie basse realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa Ruotiamo il lavoro e andiamo a realizzare una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine della riga per un totale di 8 maglie basse Ripetiamo 8 maglie basse per le prossime 9 righe Con il filato nero avviamo 32 catenelle Ripetiamo 8 maglie basse per le prossime e sulla quarta realizziamo una mezza maglia alta Continuiamo realizzando una mezza maglia alta su ogni punto sottostante fino alla fine della riga per un totale di 30 mezze maglie alte Ripetiamo 8 maglie basse per le prossime Ripetiamo 8 maglie basse per le prossime Grazie a tutti. Grazie a tutti.